Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale, ma se è la prima volta che vedi uno dei miei video, mi presento, io sono Maggie. Vedete se facciamo uno svuoto alla spesa detersivi con alcune promozioni in corso? Era un po' che non lo facevo. Iniziamo! Oggi, dopo un sacco ma un sacco ma un sacco ma un sacco di tempo, ho deciso di registrare uno svuoto alla spesa solo di detersivi con all'interno alcune promozioni che potete trovare da Detershop per quasi tutto il mese di luglio. Allora, prima di iniziare a farvi vedere tutte le cosine che ho acquistato in promozione, volevo partire da una new entry all'interno di casa mia. Un prodotto che su YouTube vedo che tutte ne uscite pazze, recensioni fantastiche, tutte si trovano bene e no, non sto parlando del detersivo Alba o Alga, allora non ricordo nemmeno perché lì anche sento dei pareri molto, molto contrastanti, c'è chi si trova bene, c'è chi si trova male, c'è chi lo comprerebbe per tutta la vita, c'è chi invece non lo vorrebbe vedere nemmeno sugli scaffali dei supermercati, ma si parla, vi parlo sempre di un prodotto per quanto riguarda la pulizia degli indumenti e sto parlando di un ammorbidente. Diciamo che vi do tre secondi per cercare di capire di quale ammorbidente sto parlando. Stoppate il video e scrivetemi giù nei commenti di quale ammorbidente sto parlando. 3, 2, 1... Ammorbidente in questione è... Rullo di tamburi... Ammorbidente Mon Amour 45 lavaggi. Allora, cosa dire di questo prodotto? Praticamente nulla, perché essendo la prima volta che l'ho acquisto, posso darvi solo una first impression per quanto riguarda il profumo, visto che comunque acquistandolo non l'ho nemmeno odorato, visto che comunque ancora si usano mascherine, eccetera, eccetera, non hanno usato nemmeno il profumo, quindi diciamo che l'ho acquistato sulla fiducia. E quindi sulla fiducia sono andata ad acquistare questo prodotto e spero tanto che sia un prodotto valido, in quanto costa all'incirca, almeno dalle mie zone, intorno ai 2,50€, 2,70€, ora non ricordo. Però facciamo così, visto che io ho un problemino di memoria, tutti i prodotti che vi mostrerò all'interno del video ve li lascerò giù in infobox con il prezzo accanto, così potete vedere, per chi conosce Detershop, se è conveniente acquistare alcuni prodotti appunto lì da loro e se le promozioni che ci sono adesso vi possono interessare, così sapete anche i prezzi da poter confrontare con altri supermercati. Allora, parto con l'annusare il prodotto. Allora, a me ricorda tanto il coccolino, quello blu. Non è male, non è veramente male come profumo. Io ora vedo che quasi tutte comprate questo, che è al profumo blu mare, però non so se ce ne sono di altre fragranze perché io ho visto solo ed esclusivamente questo qua. Oddio, il profumo pensavo fosse una profumazione, non so, diversa una profumazione, invece mi ricorda tanto il coccolino, quindi vediamo poi magari se lavando i capi, sui capi che cos'è che resta. Diciamo che per il momento il mio voto su questo prodotto è un 7, ma per quanto riguarda solo la profumazione, di altro non posso dirvi nulla perché essendo la prima volta che l'ho acquistato, la mia first impression rimane solo sul profumo. Direi di andare avanti così vi mostro tutte le altre cose che ho acquistato. Rimanendo sempre sulla pulizia degli indumenti, ho riacquistato lui, sapete, per chi mi segue già da un po' sa che questo è il mio prodotto prefe per quanto riguarda la pulizia e il lavaggio degli indumenti. Acquisto sia questo che per i bianchi, questo è solo ed esclusivamente per i bianchi, ha il profumo di linfa di aloe, c'è anche quello per i capi colorati, eccetera, eccetera. È un prodotto liquido, sbianca bene i capi, questo io lo uso anche sui colorati, se devo essere sincera, e mi trovo bene e lo compro e lo ricompro ogni qual volta finisce. Il prodotto sempre per la pulizia ed igiene dei capi, acquisto sempre lui, omino bianco, candeggina delicata, ne vado a mettere metà tappino all'interno della vaschetta dove inserisco il detersivo, e anche questa riesce a darmi delle grandi soddisfazioni. Di questo prodotto, penso che già lo sapete, esistono due fragranze, questa verde che ha il muschio bianco e quella blu che ha il profumo marine, una cosa del genere. Poi, passiamo ai prodotti per quanto riguarda la pulizia di casa. Io compro e ricompro spessissimo lo Smac, è un prodotto con il quale mi trovo bene, soprattutto da quando hanno fatto lo Smac disinfettante. Visto che me ne è rimasto ancora un pochino, non ho voluto riacquistare lo Smac, ma ho voluto riprendere lui, che è Rio Mela Aceto. È un prodotto che io utilizzavo parecchio tempo fa, poi l'ho accantonato, ma non perché non mi piaggiasse, ma perché volevo sperimentare e avere la possibilità di cambiare, qualora non trovassi lui. E quindi mi sono spostata sullo Smac disinfettante. Però oggi sono voluta ritornare un po' alle origini e ho riacquistato lui, Rio Mela Aceto. L'unica cosa che non mi piace, se proprio devo trovare un difetto, è il pack che hanno deciso di fare. A me piaceva quando c'era il pack trasparente, perché il prodotto stesso aveva una colorazione bellissima. Di altro nulla, un profumo buonissimo, si può utilizzare su diverse superfici, si può utilizzare anche per la pulizia del frigo. Quindi un prodotto multiuso a parer mio. Avevo terminato il sapone per i piatti e come già vi dicevo, in altri svuota la spesa di parecchi mesi fa, ho riacquistato lui. È il Melsen, questo è quello al limone, il classico. Ho acquistato questo qua, ma perché c'era solo questo, erano finite le altre fragranze, se no a me anche sul sapone dei piatti piace variare con le fragranze. Però c'era solo questo, a me serviva e l'ho acquistato. Compro questo formato, che è quasi di 2 litri, mi trovo benissimo, anche perché in questo modo c'è uno spreco minore di plastica, in quanto non comprando la solita bottiglietta, ma comprando solo la ricarica, io vado a ricaricare il dispenser che utilizzo in cucina e mi trovo veramente bene. Ultima cosina, ho acquistato per la prima volta queste spugne della Spontex. Vi ripeto che poi tutti i prodotti, vi lascerò giù in info box i vari costi, i vari prezzi per ogni prodotto e questo mi pare che rientra in alcune promozioni. Queste sono 4 più 2 gratis della Spontex. È la prima volta che acquisto delle spugnette, quindi poi magari vi farò sapere se mi sono trovata bene. Adesso passiamo per quanto riguarda l'igiene della persona, quindi da shampoo, bagnoschiuma, eccetera, eccetera, e alcuni di questi prodotti, se non tutti, rientrano nelle promozioni che potete trovare da Dether Shop per tutto il mese di luglio. Questo non era in promozione, ma è la prima volta che lo acquisto e spero di trovarmi bene. Sono le Soleil Click dei rasoi da donna appunto per la depilazione. Io utilizzo il rasoio per depilarmi, tranne ovviamente il viso perché ho il rasoio per il viso apposito. Lui. Lui. All'interno del canale potete trovare un video dedicato. Continuiamo sempre in promozione, colgate, ho acquistato il B-Pack. In promozione potete trovare tutti i bagno doccia della Vidal. Io ho acquistato questo che è acqua di cocco e monoi. A me il cocco non piace come profumazione, però devo dire che questa combinazione di cocco e monoi mi sa proprio di di profumo fresco, di profumo estivo. Sempre per quanto riguarda bagno doccia in promozione da Dether Shop oltre al Vidal potete trovare Neutroderma che sono loro sono loro olio di argan bagnoschiuma nutriente. A parte avere il prezzo che vi garantisco allucinante perché costano meno di un euro sono 500 ml di prodotto più 250 ml in omaggio si possono trovare in varie fragranze sono dei prodotti che hanno ovviamente tantissime fragranze io ho voluto acquistare questo Allargan ah no ricordavo di averne comprato uno diverso invece ne ho comprato un altro Allargan poi per quanto riguarda i capelli in promozione ho trovato l'oro che sono uno degli shampoo con i quali io mi trovo veramente bene che sono della Gliss della Schwarzkow un prodotto veramente ottimo perlomeno su di me trovo anche dei riscontri dei benefici la promozione che trovate questo mese all'interno di Dether Shop è che acquistando almeno due prodottini della linea testanera Schwarzkow vi daranno un piccolo sciampetto in omaggio lo sciampetto è lui poi sono riuscita a trovare finalmente dopo un sacco di tempo il Care Air Spa uno dei prodotti che all'inizio inizio utilizzavo ve ne avevo parlato molte di voi lo utilizzano e si trovano bene ragazze questo qua è un balsamo leggerissimo ma che fa il suo lavoro districa e idrata e nutre i capelli questo lo ricordo l'ho pagato 99 centesimi i due prodotti sempre che ho trovato in promozione sono questo intimo lenitivo della Venus è uno di quelli che io compro e ricompro perché effettivamente è un ottimo prodotto non mi dà fastidio e idrata la pelle in maniera ottima e non irrita in sequenza però non avevo mai visto che c'era anche il detergente intimo al corpo per uomo con antibatterico azione anti odore protegge rinfresca ed è lui termino qui il mio svuota la spesa con una promo fantastica per chi ama i DAV e per questo mese di luglio potete acquistarli da Dether Shop a 1,19€ e sono loro i DAV i deodoranti che per me sono i deodoranti della vita ne ho acquistato uno per mio marito l'Invisible Dry e vista la promozione conveniente ne ho acquistato non uno ma ben due per me il classico e questo l'Invisible ah mi ero dimenticata vabbè però ce l'ho di là ho acquistato anche un pacco di scottonella quindi per chi ama la cartigenica scottonella sapete è una cartigenica che supera anche i 3€ e in questo mese e in queste settimane la potete trovare intorno ai 2,60€ una cosa del genere però comunque come vi ripeto sempre troverete tutte le informazioni all'interno dell'info box bene ragazzi e ragazzi spero che il video vi possa essere utile per chi magari acquista da Dether Shop e ha un Dether Shop vicino a casa non perdetevi queste promozioni io intanto come sempre vi ringrazio per restare in mia compagnia ringrazio come sempre i nuovi iscritti le persone che mi seguono dall'inizio che vedo commentano e commentano sempre sotto i miei video ricordo invece per chi è la prima volta che vede uno dei miei video se ti fa piacere iscriviti al canale attiva la campanellina per non perderti l'uscita dei prossimi video e nulla io credo proprio di andarmi a fare una doccia perché fa caldissimo mi devo preparare in quanto pomeriggio devo andare a casa nuova la casa che sto ristrutturando e se riesco vi mostrerò poi gli avanzamenti che stiamo facendo nei prossimi video e nulla io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo come sempre fra qualche giorno con un nuovo video ciao